Puntare sul segmento più alto del manufatturiero e delle sue eccellenze, formarle apprendo così nuove prospettive imprenditoriali e scientifiche, nonché importanti ricadute sul territorio. Parte da questo input la due giorni di full immersion che vede impegnati manager delle più importanti aziende del ramo insieme a giovani studiosi arrivati da ogni parte d'Italia a Lecce e che in primavera termineranno la fase di preparazione dell'ambito del progetto Kira del Ditec, il distretto tecnologico Hitec pugliese. Tra le industrie principali a cui questo progetto è rivolto quella meccanica e in particolare quella aeronautica. L'aerospaziale non è per noi, non è l'obiettivo finale, ma è sicuramente un sistema complesso, manifatturiero di grandissima specializzazione, che però può dare delle metodologie, delle competenze che poi sono esportabili in tutti i settori manifatturieri. L'intento è quello di arrivare ad ideare tecnologie avanzate nonché una metodologia in grado di ottimizzare per le aziende la gestione del ciclo del prodotto puntando su un'ingegneria olistica. Noi in questo modo abbiamo vinto una delle scommesse del manifatturiero del futuro. Il manifatturiero del futuro vuol dire fare sempre meno oggetti elementari e fare sempre più la parte alta del manifatturiero, quella che ha posti di lavoro pregiati con alto costo del lavoro. Quello che facciamo noi supportando le aziende in questa crescita è proprio questo.